La pubblicazione dei bandi di concorso avvenuta martedì sera sembrava aver messo la parola fine ad una vicenda complicata che si stava trascinando ormai da molti mesi. Sulla questione era intervenuto domenica sera lo stesso presidente Conte che nel corso di una delle tante conferenze stampa di questo periodo aveva annunciato che il governo avrebbe dato avvio alle procedure concorsuali nella scuola nonostante le perplessità di alcune componenti della maggioranza. Non sono mancate già da subito le polemiche perché le prove dello straordinario potrebbero essere calendarizzate per l'estate, forse agosto persino luglio per poter procedere alle assunzioni già a partire da settembre. Ma il tema dei concorsi si sta intrecciando con l'iter parlamentare del Decreto Legge 22 su esami di Stato, valutazione degli alunni e altre misure in materia di istruzione. Proprio mercoledì sera scadevano in Commissione Cultura i termini per la presentazione degli emendamenti e alcune forze politiche hanno deciso di presentare proposte di modifica che potrebbero rimettere tutto in discussione. Nulla di strano per carità se non fosse che a presentare gli emendamenti sono stati persino senatori della maggioranza del PD e di l'Euro in particolare. Le modifiche riguardano la controversa questione dei concorsi per soli titoli sui quali la Ministra Azzolina si è sempre detta contraria e che vengono invece rivendicati dai sindacati del comparto scuola e ora sostenuti anche da una parte della maggioranza. Meno controverso è invece l'emendamento che prevede l'aumento dei posti per il concorso straordinario da 24.000 a 40.000. Su questo obiettivo il consenso potrebbe essere generale. Su tutto il resto i problemi ci sono e non sembrano di facile soluzione dal momento che il Movimento 5 Stelle ha già fatto sapere di essere nettamente contrario sull'ipotesi di un concorso per soli titoli perché questo vorrebbe dire rallentare l'intera macchina concorsuale con la conseguenza di non riuscire ad assumere i vincitori già a settembre. La vicenda è molto complicata in quanto anche la Lega tramite il senatore Mario Pittoni intende dare battaglia per sostenere la strada del concorso per soli titoli. Non è affatto vero, sostiene Pittoni, che in tal modo si rallenterebbero i tempi per le assunzioni. Anzi, dice Pittoni, proprio con il concorso per soli titoli si potrebbe garantire che a settembre ci siano insegnanti in grado di coprire una parte almeno delle 200.000 cattedre vacanti. Ma appare difficile, francamente, pensare che in Commissione Cultura del Senato, dove la discussione del decreto inizia proprio nella giornata del 30 aprile, PD, Leu e Lega possano votare insieme contro il Movimento 5 Stelle. Se ciò avvenisse, la tenuta del governo e soprattutto della ministra Zorina potrebbe essere messa a rischio. Anche se per la verità non è neppure da escludere che PD e Leu stiano tentando di mettere in difficoltà la ministra in vista di un prossimo rimpasto di governo, che ormai molti osservatori danno per probabile. Come vedete, la situazione è complicata, articolata e quindi noi continueremo ad occuparcene. Seguiteci sempre su questo canale e soprattutto sul nostro sito www.tecnicadellascuola.it. Mandateci i vostri commenti, i vostri suggerimenti, le vostre osservazioni, noi ne daremo conto come sempre. Grazie. 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 Grazie.